Nuova operazione della Polizia di Stato insieme ad altre forze dell'ordine e ai tecnici dell'azienda della rete elettrica per verificare allacci abusivi alla rete di distribuzione a Siracusa. Il servizio si è svolto con il contributo degli agenti del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine di Catania e prevede efficaci misure di vigilanza, ordine e sicurezza allo scopo di prevenire ogni illegalità e di garantire il regolare svolgimento delle operazioni finalizzate al controllo dei contatori in questione. L'operazione che si innesta nella più articolata azione di ripristino della legalità e di contrasto alla criminalità diffusa che ha visto nelle scorse settimane la questura di Siracusa insieme ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale impegnata sul fronte della repressione e della prevenzione dei reati, è finalizzata a combattere ogni forma di illegalità, aumentando la percezione di sicurezza nei cittadini ed affermando con forza la presenza dello Stato.